Si allarga con gli studenti del liceo artistico di Gela la famiglia che periodicamente si occupa di allestire la graziosa mostra dell'artigianato alla chiesetta San Biagio di Gela. L'evento è stato ideato dall'associazione Creativè presieduta da Rina Cannarozzo. Una bella novità, molto gradevole e gradita, dell'istituto artistico del liceo artistico che ci ha portato dei lavori molto belli eseguiti dai ragazzi, dagli alunni del liceo. Un'altra novità è che stiamo cercando di avere un futuro con le bambine che cominciano a imparare qualche cosa da fare che almeno speriamo che creano delle cose carine e un inizio. Questi corsi noi li facciamo gratuitamente alle bambine proprio per il piacere e la speranza di poter tramandare le nostre cose, la nostra manualità alle generazioni future. L'associazione Creativè cerca di recuperare la tradizione legata alla realizzazione di manufatti artigianali che si è un po' persa nel tempo. Molto persa nel tempo perché sono distratti da tante altre cose, televisione, telefonini, cose, facebook, non hanno tempo di lavorare, però perdono molto. Cioè guadagnano forse in altre cose, però dal punto di vista delle tradizioni si perde un po' tutto. Gli studenti del liceo artistico Ettore Majorana di Gela hanno esposto le loro opere. I ragazzi sono contenti di poter esporre i loro lavori. Abbiamo portato dei lavori fatti in pittura, in moda e in scultura. Sono i laboratori che ci sono gli indirizzi che abbiamo nell'istituto. L'amministrazione comunale è sempre onorata di aprire le porte dei suoi locali alle associazioni, alle scuole. E la cosa più bella è che oggi ci sia questa sinergia tra scuole e associazioni, in questo caso le associazioni femminili, per promuovere sempre il nome del nostro territorio che è fatto di arte, di giovani talenti e di donne impegnate al massimo, anche nel sociale, perché significa fare attività sociale, insegnare ai giovani, come state vedendo, ai bambini, alle nuove generazioni, come si lavora, come ci si possa concentrare anche in attività che sono creative e che sono sane, soprattutto oggi in questa società in cui ci sono distrazioni che non sempre sono legite. Grazie.